Ben tornati a tutti. Oggi è domenica, 22 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Soluzioni ragionate per ogni problema. Sul piano interpersonale ve la vedete con intoppi e diffidenze, ma guidati dall'intuito della luna che invece vi è amica aggirate l'ostacolo con valide alternative, suggerite dall'originalità di Urano, motore di accese fantasie. Se l'amore ha lasciato cicatrici, col favore di venere intrigono ripartite da una bella amicizia, galeotto un drink e qualche confidenza, vi ritrovate abbracciati, aperti a nuove esperienze. In pista con un viaggio culturale o per una scarpinata nel bosco alla ricerca delle ultime castagne. Sperando che non abbiano il baco. Ma ci sta anche lo shopping cittadino, il mercatino delle pulci o alla ormai consueta pizzata tra amici. Per un esame impegnativo conviene studiare anche oggi, se le vostre apprensioni riguardano una prova non hanno ragione d'essere, la fortuna vi assiste anche quando l'ansia vi rende intrattabili. E' un uomo in vista, decisamente autoritario e severo, particolarmente attento alla sostanza. Un uomo in divisa, un uomo che ha autorità. E' un professionista, come un medico, un avvocato, un giudice, o che per motivo del suo lavoro indossa una qualunque divisa. E il marito, il fidanzato, il padre severo, l'amico intransigente. Fondamentalmente prospetta un riordinamento nella propria vita e una più severa rivalutazione dell'amore. Particolarmente oggi ricordatevi che per ogni porta chiusa si spalancono portoni. Vi arriverà un aiuto da una persona da cui non ve lo sareste mai aspettati. Qualcuno vi pensa da tempo e nemmeno ve ne accorgete. Abbiate cura di leggere in ogni piccolo gesto degli altri qualcosa che vi farà capire chi è esattamente. Se non vi dispiace incentivatelo. Nettuno favorisce tutto ciò che è lavoro e rapporti commerciali, Giove però potrebbe mettersi di traverso e provocare intoppi che potrebbero lasciarvi di cattivo umore. Donate sorrisi a tutti quelli che vi circondano, siate affabili, gentili e potendo date qualche buon consiglio ma soprattutto ascoltate gli altri, i loro sfoghi, le loro delusioni. Oggi sarà meglio ascoltare. Delle novità potrebbero comportare dell'ansia e crearvi qualche apprezzione. Restate tranquilli che le novità possibili oggi non muteranno la vostra vita e qualcuna potrebbe essere addirittura positiva e risolvere qualche problema che vi affligge. Questo è un giorno che dovete assolutamente scegliere per essere quello in cui vi dedicherete di più a voi stessi e alla persona che vi sta a cuore, e da un po' che state trascurando le cose necessarie che vi aiuteranno a vivere meglio e con più intensità. Fate attenzione ai piccoli elettrodomestici, oggi potrebbero darvi delle noie. Non perdete la pazienza e portateli a riparare subito se avete la convinzione che non funzionino a dovere. Le circostanze si muoveranno in suo favore. Notizie da lontano. Accetta gli inviti che ti faranno. Con Venere e Luna potrai fare affidamento in fatto di soldi e ancora meglio in amore. Dipende da te. Lasciate che sia il tempo a determinare e a decidere se il nuovo che vi accadrà oggi sarà positivo in parte o in tutto. Non lasciate in ogni caso nulla di intentato. Il profilo del pieno autunno va cambiando e vi conduce a un costante, progressivo e chiaro miglioramento. Saturno astro della razionalità, nei pesci, segno vostro amico sulla ruota della Zodiaco, se siete nati dal 23 al 29 aprile, vi promette una giornata in cui sarete sempre più attivi e sicuri di voi stessi nel perseguire alcune ambiziose mete personali e professionali. Venere Vergine, in aggiunta, vi sostiene, vi misurerete in sfide di un discreto livello. Luna di Terra abbracciata a Plutone intrigono al vostro segno e all'inquilino Urano, che ama la vita movimentata e caldeggia la tecnologia, senza dimenticare però la fantasia, ereditata dai cartoni animati e oggi incoraggiata dal sestile di Nettoon nel ruolo di intermediario tra voi e la bianca signora. Giornata perfetta per una scarpinata in montagna in cerca di castagne, se aspettate ancora un po' le troverete tutte con il baco. Amore ed Eros. Coccole bollenti del Lettone, anche le terme possono essere uno spunto per dare inizio al gioco erotico, tenero e lievemente trasgressivo, non troppo però, gli eccessi vi fanno sempre paura, specie la sensazione che la cosa possa sfuggirvi di mano. Dallo Scorpione Marte propone negatività, specie se siete nati nella prima decade. Qualche divergenza con il vostro amore, oppure un problema esterno, delle famiglie d'origine, condizionante la vostra coppia, sorge all'orizzonte. Niente di preoccupante, tuttavia, recupererete molto brillantemente in seguito. Il Corpo Celeste vostro nome tutelare, venere dalla Vergine vi regalerà momenti di vera intimità, come veramente vorreste e da trascorrere con la persona che vi è accanto. Lavoro e denaro. Voglia di libertà, anche se il meteo non è splendido prendete la bice e andate a farvi una corsa in campagna, i colori dell'autunno sono splendidi e sufficienti per stanare anche i più pigri. Domenica perfetto per incontrare gli amici e organizzarvi il prossimo ponte, nulla di esotico o di costoso, ma un bel soggiorno in baita, tra polenta, funghi e castagne ben innaffiati, non ve lo leva nessuno, il capodanno celtico risveglia il druido che sonnecchia in voi. Imprevisto da cavalcare, ma se preso per il verso giusto si rivelerà una sorpresa. Siete taurini della terza decade? Un Plutone in aspetto ottimale vi consente una felice collaborazione con i colleghi di lavoro con cui si realizzano varie operazioni funzionali e si concludono affari vincenti. Il cielo è dalla vostra. Benessere. Felicissimi fuori casa, l'essenziale è uscire dall'ambiente quotidiano e staccare la spina dalla routine, la tensione nervosa ha forte anche se sotto controllo, se non le placate ora le emozioni possono esplodere quando meno ve lo aspettate. Inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati, fatelo prima. Per lei, una passione esplosiva si accende durante un viaggio, basta un attimo per incontrarsi e innamorarsi fatalmente. Per lui, nelle situazioni difficili non perdete la calma, anche in contesti inconsueti vi muovete con disinvoltura come a casa vostra. Colore delle emozioni, verde scuro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.